Voglio qui presentarvi un'apertura di Jembe, cioè come un fraseggio solistico di Jembe che introduce poi a un pezzo percussivo, questa avertura la faremo a mani alternate, sempre alternate saranno le mani, quindi si comincia con un home frame Eccola qui Eccola qui Eccola, eccola E qui si inizia Eccola, eccola Grazie e buon lavoro